Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo calcolare il valore dell'espressione mostrata applicando, ove possibile, le proprietà delle potenze. Cominciamo ad esaminare i vari termini della nostra espressione. Abbiamo meno 2 meno meno 2 elevato al quadrato. Meno 2 al quadrato è una potenza che ha la base negativa e l'esponente pari. Per questa ragione questa potenza ha per risultato un numero positivo e precisamente più 2 elevato al quadrato. Andando avanti abbiamo meno meno 2 elevato al cubo. Meno 2 elevato al cubo è una potenza che ha la base negativa e l'esponente dispari. Per questa ragione il risultato è un numero negativo e precisamente meno 2 elevato al cubo. Tutto questo è moltiplicato per 2 elevato alla decima. Il risultato è diviso per 2 elevato al cubo ancora elevato al cubo. Questa è una potenza di potenza quindi è uguale ad una potenza che ha per base la stessa base quindi 2 e per esponente il prodotto degli esponenti quindi 3 per 3, 2 elevato alla nona. Meno, abbiamo meno 3 elevato al cubo per meno 3 elevato alla undicesima. Abbiamo quindi un prodotto tra due potenze che hanno la stessa base ma diverso esponente quindi il risultato è una potenza che ha per base la stessa base quindi meno 3 e per esponente visto che parliamo di un prodotto la somma degli esponenti quindi 3 più 11 meno 3 elevato alla quattordicesima. Il risultato è diviso per meno 3 elevato alla sesta tutto ancora elevato al quadrato anche in questo caso abbiamo una potenza di potenza. Il risultato è meno 3 c'è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti quindi 6 per 2 meno 3 elevato alla dodicesima. La nostra espressione quindi sostituendo i valori fino a questo momento ottenuti è uguale a aperta parentesi graffa aperta parentesi quadra meno 2 dobbiamo fare particolare attenzione ai segni meno meno 2 elevato al quadrato è più 2 elevato al quadrato quindi meno più 2 elevato al quadrato ancora meno meno 2 elevato al cubo è uguale a meno 2 elevato al cubo quindi scrivendolo meno 2 elevato al cubo. Il risultato di questa somma algebrica in parentesi quadra deve essere moltiplicato per 2 elevato alla decima. Tutto questo è diviso per 2 elevato al cubo ancora elevato al cubo quindi abbiamo detto 2 elevato alla 9 meno abbiamo queste parentesi quadre all'interno delle quali c'è una moltiplicazione il cui risultato è meno 3 elevato alla quattordicesima quindi scriveremo meno 3 elevato alla quattordicesima diviso meno 3 elevato alla sesta ancora elevato al quadrato quindi come abbiamo visto meno 3 elevato alla dodicesima alla dodicesima. A questo punto facciamo qualche osservazione ulteriore ed osserviamo che 2 al quadrato è uguale a 4 quindi più 2 al quadrato è uguale a più 4. 2 al cubo è uguale ad 8 quindi meno 2 al cubo è uguale a meno 8. Abbiamo ancora meno 3 elevato alla quattordicesima diviso meno 3 elevato alla dodicesima qui possiamo applicare ulteriormente le proprietà delle potenze osservando che abbiamo la divisione tra due potenze che hanno la stessa base ma diverso esponente quindi il risultato è una potenza che ha per base la stessa base quindi meno 3 e per esponente la differenza degli esponenti quindi 14 meno visto che c'è il diviso 12 14 meno 12 uguale a 2 il risultato è meno 3 elevato al quadrato quindi la nostra espressione è uguale a aperta parentesi graffa aperta parentesi quadra meno 2 meno più 4 meno meno 8 chiudiamo la parentesi quadra per 2 elevato alla decima chiuso parentesi graffa diviso 2 elevato alla nona meno meno 3 elevato alla quattordicesima diviso meno 3 elevato alla dodicesima il risultato di questa divisione è meno 3 elevato al quadrato a questo punto osserviamo che meno 3 elevato al quadrato è una potenza che a base negativa ed esponente pari per questa ragione il risultato è positivo e precisamente il seguente più 3 elevato al quadrato continuiamo adesso a risolvere la nostra espressione si ha aperta parentesi graffa aperta parentesi quadra meno 2 meno più 4 quindi meno 4 meno meno 8 quindi più 8 tutto questo moltiplicato per 2 elevato alla decima diviso 2 elevato alla nona meno meno 3 elevato al quadrato è uguale a più 3 elevato al quadrato osserviamo adesso che il risultato della somma algebrica presente in parentesi quadra è più 2 infatti abbiamo meno 2 meno 4 che è uguale a meno 6 meno 6 più 8 è uguale a più 2 possiamo quindi scrivere che la nostra espressione è uguale a aperta parentesi graffa più 2 per 2 elevato alla decima chiuso parentesi graffa diviso 2 elevato alla nona meno più 3 elevato al quadrato quindi meno più 3 elevato al quadrato è uguale a 9 più 9 ancora tutto questo uguale a aperta parentesi graffa più 2 per 2 elevato alla decima scriviamo il più 2 come più 2 elevato alla prima normalmente questo esponente si omette ma in questo caso lo lasceremo per facilitare il ragionamento che segue quindi più 2 elevato alla prima che moltiplica 2 elevato alla alla decima chiudiamo la parentesi graffa diviso 2 elevato alla nona meno più 9 quindi meno 9 a questo punto osserviamo che all'interno delle parentesi graffe c'è un prodotto di potenze e precisamente due potenze che hanno la stessa base 2 è diverso esponente quindi il risultato sarà una potenza che ha per base la stessa base quindi due e per esponente visto che qui c'è il per la somma degli esponenti quindi 1 più 10 2 elevato alla undicesima riscrivendo la nostra espressione abbiamo che tutto questo è uguale a 2 elevato alla undicesima diviso 2 elevato alla nona meno 9 a questo punto non ci resta che osservare che 2 elevato alla undicesima diviso 2 elevato alla nona è la divisione tra due potenze che hanno la stessa base ma diverso esponente il risultato è quindi una potenza che ha per base la stessa base quindi 2 e per esponente la differenza tra gli esponenti quindi 11 meno 9 cioè 2 il risultato è 2 al quadrato quindi per terminare la nostra espressione abbiamo 2 elevato al quadrato meno 9 ma 2 elevato al quadrato uguale a 4 quindi tutto questo è uguale a 4 meno 9 cioè meno 5 bene ragazzi per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita